salve a tutti ragazzi oggi nuovo video e nuovo volo col mavicare ma stavolta a 360 gradi si perché adesso come vi sarete accorti sto registrando un video a 360 gradi e la cam lg360 che sto usando adesso la proverò a montare sul mavicare per vedere come sono le riprese a 360 gradi e vedere come il mavic supporta la telecamera e come la telecamera reagisce sul mavic ragazzi essendo un video a 360 gradi ricordatevi di girare le immagini con il mouse o col dito così che potrete girare nei 360 gradi ripresi dalla videocamera quindi adesso montiamo la telecamera e vogliamo a 360 gradi un video a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete il video. Ci vediamo al prossimo ragazzi, ciao!